Tanti anni di battaglia e di sacrifici per fare in modo che questi due PPI venissero aperti H24 ed ecco con un colpo di mano ci siamo ritrovati dapprima chiusi totalmente e adesso sempre con la speranza perché non sappiamo ancora se in realtà dal 16 giugno saranno riaperti. Riaprire subito i PPI di Pescina e Tagliacozzo è la richiesta pressante che arriva dalla consigliera regionale Marianna Scoccia da pochi giorni passata all'opposizione dopo aver fatto parte della maggioranza di centrodestra guidata dal presidente Marsilio in quota Udc. Scoccia, in qualità anche di sindaco di Prezza, chiede una mobilitazione bipartisan ai suoi colleghi sindaci per spingere la regione ad affrontare e soprattutto risolvere la problematica. Che basta con le chiacchiere, siamo stufi di stare a ascoltare il direttore generale che verrà a dirci che non ha i soldi per gli infermieri, per i medici quando poi all'ospedale di Pescara vengono assunti 75 infermieri tra insomma personale sanitario, tra infermieri, medici e quant'altro per una spesa di un milione e otto. Non esiste insomma. Quindi basta con queste stufe. Loro oggi devono dare delle risposte, quindi devono assolutamente trovare i soldi anzi li avrebbero già dovuti trovare ieri e devono riaprire questi due presidi H24. Martedì prossimo il presidente della Commissione Sanità regionale, Mario Quaglieri, ha calendarizzato la discussione sui punti di primo intervento marsicani, una scelta però criticata da Scoccia. La commissione è stata convocata per l'11 giugno, dove all'ordine del giorno non c'erano assolutamente le audizioni dei vari sindaci, del direttore Testa su questo punto così importante dei presidi di Tagliacozzo e di Pescina. Dopo che noi abbiamo sollevato questa grave mancanza, allora il presidente Quaglieri di fretta e furia ha cercato di trovare uno spazio per mettere questa convocazione e pensate un po' la cosa ancora più grave che è che convocare una commissione di un argomento così importante, metterla un'ora prima del Consiglio regionale fa capire quanta importanza stanno dando a questo tema. Dovevano, a mio avviso, dare spazio a questa commissione in un momento di estrema tranquillità e non l'11 e ne l'9, perché è già troppo tardi. Il presidente Quaglieri ha preso un impegno, lunedì scorso, in una conferenza di tutti quanti i sindaci della Marsi, che lui già il giorno dopo avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione al presidente Sospiri per convocare una seduta di commissione straordinaria.